Faccio una puntata metafisica, recito una poesia di Emily Dickinson, dice così Io non sono nessuno, e tu? Anche tu non sei nessuno? Allora siamo in due? Ssss, non dirlo in giro, ci caccerebbero, lo sai? Che orrore essere qualcuno, che volgarità, ripetere il proprio nome come una rana tutto il mese di giugno a una palude ammirata.